Te la stavi minando eh? Ma che c'è? Minare la macchina. Che ci devi fare? Ci dobbiamo fare un giro. Mi serve per andare al cantiere. E allora? E allora niente, non te la posso arrivare. Come, dobbiamo andare a Montello con Matteo? Andateci con la moto. E se carichiamo due ragazze? Non c'è bisogno di fare una macchina per caricare una puttana. Ma chi pensi di me da sé? Ora perché non hai tu fermo una rapera nudo. Meglio con una puttana non come te che ti prendono per frocio. Ma che c'è in mezzo alle gambe aria? Natale, sei attento che ti sputa in faccia. Ma ti sputa a me in faccia, sputa. Ma tu vuoi fare paura sui tuoi compadri, no a me? Ah, che male che mi hai fatto. Ma come sei violento. Natale, non mi rompi i coglioni. Tu puoi fare tutte le minchiate che vuoi. Tanto e mai a mia tomba rompere i coglioni. Che significa questo tanto e mai? Se non l'ammazzavano a papà si aspettavano a te. Spacca la faccia, lo spacco a noi. E' per quelli come te che tutto questo fa schifo. E' che questa città farà sempre schifo. Ci saranno sempre mille e molte ammazzate. Ma che cazzo avete nella testa? A fottere, a fottere sempre. E' un fatto un cazzo tutti i giorni. Non siete uomini, siete cani. Te, ora prendete la patina. Levate a me il suo cazzo.